Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Finalmente parliamo di Avatar The Way of Water o La Via dell'Acqua, in Italia è stato chiamato così, e anche se il film l'ho visto il 14 dicembre, quindi all'uscita effettiva in sala, non so per quale motivo mi sto ritrovando solamente adesso a parlarne qui su YouTube, o anche sugli altri social in realtà. Il film l'ho visto in 3D in una sala UCCinemas, e per quanto mi riguarda vederlo in 3D è l'unico modo possibile per fruire bene di Avatar The Way of Water, o comunque di Avatar in generale. Premetto, in realtà l'ho già detto in molti video qui sul canale, è che Avatar l'ho recuperato solamente quest'anno. L'ho visto per la prima volta, almeno per intero, a maggio, poi sono risultato positivo al Covid proprio lo stesso giorno, e poi l'ho visto con più tranquillità a settembre in sala, quando c'è stata la rirelease in 3D. Nonostante questo, proprio da gennaio, anche senza aver visto il primo film, attendevo tantissimo Avatar The Way of Water, anche per le premesse fatte da James Cameron. E in poche parole le mie aspettative non sono state tradite nemmeno un po'. Ragazzi, prima di iniziare però velocemente vi invito a seguirmi anche sugli altri social, i link sono tutti nella descrizione, assieme al link di Pampling, per supportare il canale potete usare il codice Il Pensiero 4, così assieme alle t-shirt o gli altri prodotti che acquistate, avete anche la possibilità di scegliere un paio di calze e averle gratis. Ma se invece volete semplicemente supportarmi gratuitamente, basta un like, una condivisione, qualche commento, e magari anche un'iscrizione se vi trovate qui per la prima volta. Adesso, prima di parlare effettivamente del film, vorrei parlare dell'esperienza che ho avuto il 14 dicembre. Perché, ripeto, ho visto il film in 3D in una sala UC Cinema a Palermo, e per tutta la durata, sfortunatamente ogni tanto, veramente raramente all'inizio, schermo nero, per davvero un secondo e nemmeno. Arrivati poi all'ultima mezz'ora, più o meno 45 minuti, il film dura 3 ore e 15 minuti, quindi arrivati all'ultimo atto, il 3D per un attimo scompare e poi si sfasa totalmente. Quindi si vede lo sfondo come se fosse il primo strato, e i personaggi, là in fondo, la proiezione viene bloccata, rimandano il film indietro di 7-8 minuti, comunque sicuramente non erano pochi minuti, si riguarda la scena, il problema ritorna, di nuovo il problema del 3D, rimandano indietro di altri 7-8 minuti, quindi riguardo di nuovo la stessa scena, riguardiamo tutti quelli in sala, in pratica potrei trascrivere letteralmente tutte le frasi, tutti i dialoghi dei personaggi in quegli 8 minuti, li so a memoria, e poi il problema si sistema, ritorna solamente ogni tanto lo schermo nero, ma forse solo due volte prima della fine del film. Di certo non è stata un'esperienza positiva, anche perché il biglietto è costato 13 euro, prendendolo online, sinceramente non so e non voglio nemmeno sapere di chi sia il problema, se della sala, se del luce cinema, o del file del film, però penso sia normale, come cosa mi ha un po' innervosito. Adesso però parliamo di cose positive, quindi andiamo a parlare di Avatar The Way of Water. Pensavo fosse davvero difficile raggiungere la qualità del 3D, o comunque degli effetti visivi del primo Avatar del 2009, che sembra uscito comunque ieri, e invece è stato possibilissimo, anzi è stato anche superato quel 3D. Esagero un po', ma in realtà guardando ora le scene del 2009, la differenza si nota tantissimo, e non me lo sarei mai immaginato, perché la CGI del 2009 sembra davvero, anzi è migliore di molta CGI che stiamo vedendo ultimamente nel 2022, 13 anni dopo. E credo che molte case di produzione, tra cui ovviamente la Disney e la Marvel, con gli studi di WFX annessi, si stiano mangiando le unghie, le dita, gli avambracci, tutte cose, tutto il corpo, pensando che adesso devono arrivare a questo livello per i film, perché Cameron in poche parole ha settato un altro nuovo standard. Ho già detto che il film dura 3 ore e 15, e personalmente le ho sentite anche meno del primo Avatar, e potrebbe essere un un popular opinion, ma questo The Way of Water l'ho preferito, forse perché appunto ho recuperato il primo solamente quest'anno, e non è uno dei miei film dell'infanzia, o comunque con cui sono cresciuto, e in fin dei conti in realtà questo The Way of Water è più o meno una retcon, un reboot, un soft reboot del primo, probabilmente rendono anche inutile una piccola parte del primo film, però tutto sommato non me ne frega nulla, perché mi è piaciuto tantissimo, oltre all'esperienza drammatica subita, l'esperienza della visione quando funzionava tutto è stata perfetta, stupenda. I nuovi personaggi introdotti che prendono il ruolo di protagonisti, ormai i protagonisti non sono più esattamente Jake Sully e Nightiri, ma sono i loro figli, almeno non tutti, però ho sentito un po' il passaggio di testimone, i nuovi personaggi, tra cui i figli, mi sono piaciuti davvero tanto, anzi, anche quelli messi un po' più in secondo piano, come Took, la navi più piccola, e Natayam, anche loro mi sono piaciuti, anche se fin dall'inizio si capisce quale sia il loro scopo. I figli messi più al centro, tanto che sono gli unici presenti nella locandina, anche quella che ho messo nella miniatura di questo video, sono Loak e Zireia. Zireia che in originale è doppiata, o comunque interpretata, da Sigourney Weaver, la stessa che interpretava la dottoressa nel primo film, e che qui comunque ha un legame molto importante con questo personaggio. Anche la presentazione di altri tipi di navi, ovvero quelli dell'acqua, quelli che abitano nel reef, l'ho apprezzata tanto. Infatti sono molto diversi dai navi della foresta, hanno braccia, code, anche forse diverse. Anche il colore in realtà è la prima cosa che si nota, sono un po' più sul verde acqua, in confronto al blu astro dei navi della foresta. E ripeto, anche questa presentazione di questi nuovi navi a pennello, mi è piaciuta molto. E direi, anche perché comunque in tre ore e quindici, se non avessero dato una caratterizzazione anche solo a un personaggio introdotto così, di straforo, sarebbe stato un po' difficile affezionarsi alla storia, a quello che succede effettivamente. Quindi anche una piccola comparsa che dura poco sullo schermo, ha una caratterizzazione non enorme, ma almeno ce l'ha. La storia alla fine, ripeto, è un po' un soft reboot del primo film del 2009, anche se per qualche cosa l'ho trovata un po' più studiata. Io non sono dell'opinione che il primo Avatar è un brutto film solo perché ha una trama semplice, una trama che si è vista più volte in Pocahontas, Balla coi lupi, assolutamente no. Anche perché poi, alla fine, Avatar, l'unico obiettivo che ha, è quello di stupire, totalmente. E ci riesce senza alcun dubbio. Ci sono davvero pochissime cose che non ho apprezzato del film, tra cui qualche volta la caratterizzazione, qualche uscita strana di Jake Sully, ma comunque non sono errori perché l'hanno voluto presentare in questo modo, e anche Naitiri. Naitiri grida un po' troppo in questo film. Tra i figli di Jake e Naitiri abbiamo anche Spider, questo umano, un po' alla Tarzan, un po' alla Mowgli, quelle robe lì, e sinceramente mi ha stupito come personaggio perché mi aspettavo prendesse una certa strada ad un certo punto ed invece no, invece ha deciso di fare qualcosa di diverso. Quindi in realtà le azioni di molti personaggi della storia non sono prevedibilissime, nonostante anche in questo caso sia qualcosa di molto semplice. Tutti i legami presenti nel film tra navi e navi, navi umani, navi animali, mamma mia, gli animali in questo film sono qualcosa di stupendo, soprattutto i tulkun, queste pseudobalene che comunque hanno un legame con i personaggi protagonisti, ripeto, tutti i legami a loro volta ti fanno legare al film e a quello che succede. Il villain qui non so se posso effettivamente dirlo perché non ricordo se è stato già detto prima dell'uscita del film, però appunto per evitare spoiler non lo dico, però il villain qui mi è sembrato un po' ripetitivo, infatti forse è una cosa che non ho apprezzato tantissimo, anche se comunque qualche differenza c'è dal primo film, spero che si cambi un po' rotta. Fatto sta che superato poi il mini spiegone iniziale su questi villain, che comunque non è assolutamente pesante, è uno spiegone fatto abbastanza bene, superate quelle scene ho chiuso un occhio e anche il villain mi è piaciuto tanto, soprattutto perché anche lui ha dei legami e per quanto mi riguarda il 90% delle cose in questo film è stata trattata con le pinze, assolutamente. L'ho già detto, il film si divide in tre atti, dura un po' di più del primo film, il primo è un po' di presentazione, appunto ci viene presentato il villain, ci vengono presentati i cambiamenti che avremo nella storia dei personaggi protagonisti e infatti secondo me la seconda metà del primo atto è quella un po' più difficile da superare, non che sia noiosa, ma si sente un po' la durata, ma da quando si inizia a vedere per la primissima volta un po' di acqua, ecco da lì, soprattutto per gli effetti visivi del film, non so quanto possa rendere poi Avatar 2 su Disney+, quando arriverà, perché comunque arriverà, il film è di Disney, sotto Disney, e che sia anche fra sei mesi, otto mesi, il film su Disney+, approderà, ma appunto da quando si inizia a vedere l'acqua, le immersioni, Pandora sott'acqua e tutti gli altri animali, tutta la fauna e la flora di Pandora sottomarina, lì è tutto stupendo. Alla fine si punta molto sulla bellezza del film, perché in fin dei conti soprattutto la parte centrale appunto delle immersioni, delle presentazioni dei nuovi personaggi sono molto piatte a livello di storia, non è che ci venga presentata chissà che cosa, sembra molto un documentario, ma uno di quelli migliori in assoluto, e davvero, a parte qualche scena che porta avanti la trama e alcuni legami tra i personaggi, anche qualche scena action in realtà, la parte centrale va sempre così, orizzontalmente, ma poi quando effettivamente si arriva all'ultimo atto, quello di cui ho visto praticamente i primi otto minuti per tre volte, quando si arriva alle ultime scene, quindi quelle di risoluzione e di ultime battaglie, lì si arriva a superare anche il secondo atto che per me era già perfetto così, non solo per le scene d'azione, non solo per le autocitazioni, James Cameron si è autocitato in questo Avatar 2, ma anche perché ho avuto l'impressione che su questo ultimo atto si siano concentrati il triplo, e parlando un po' con altra gente che ha visto il film, è un'impressione che hanno avuto in molti. Per quanto mi riguarda questo Avatar 2, sembra un po' un film di transizione, ok, succedono tante cose, ci vengono presentati altri personaggi che credo rivedremo in futuro, penso di sì, alcuni cambiamenti non mi hanno fatto impazzire, altri li ho adorati invece, ma Avatar 2 sembra davvero un po' un film di transizione, quindi credo che nel terzo avremo ancora qualcosa di migliore, e anzi, andando avanti si andrà sempre migliorando, e sono curiosissimo di vedere quale sarà la tecnologia usata nei prossimi film, perché James Cameron ha detto che ci saranno sempre più tecnologie nuove, anzi, ce ne sarà una che sarà disponibile per le altre case di produzione solo nel 2026 o 2028, comunque loro hanno l'esclusiva, ma se arriva ad Avatar 5 che è tipo Ready Player One, ti metti il visore ed entri in questo mondo, così sarebbe figo, ma allo stesso tempo un po' strano, ma vi ricordo che Avatar 5 arriverà nel 2028, quindi il significato di strano potrebbe cambiare in questi anni, e in realtà in questo video non vorrei parlare con spoiler del film, perché vi consiglio assolutamente di andare a vedere il film in 3D, io credo che lo andrò a rivedere almeno una volta, un'altra volta sempre in 3D, perché mi è piaciuto davvero tanto, uno dei migliori film dell'anno assolutamente, magari poi fra qualche giorno uscirà un video proprio dedicato alla recensione con spoiler di Avatar 2, quindi magari fatemelo sapere con un commento qui sotto se volete questo genere di video, oppure vi basta semplicemente questa recensione senza spoiler, e ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti dei miei social, i link di Pampling, codice delpensiero4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis, se invece volete supportarmi gratuitamente basta un like, un'iscrizione, una condivisione, qualche commento qui sotto, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!